All'inizio di questa crisi hai scritto un articolo che ha destato grande successo tra i tuoi lettori del fatto e non solo. Ho un sogno, il sogno che Giuseppe Conte sfancula Matteo Renzi nell'Aula del Senato come fece per l'altro Matteo. Ebbene, questa possibilità è stata prefigurata dallo stesso Conte nella conferenza stampa di fine anno. Tu caldeggi ancora questo sogno o rischia di diventare un incubo per Conte se va davvero in Parlamento e si ritrova ad essere sfiduciato con l'impossibilità di avere un nuovo incarico? Purtroppo i sogni raramente diventano realtà e dobbiamo fare i conti con la realtà. Io penso che un punto però sia fondamentale e sia che il Parlamento sia coinvolto in tutto quello che succederà da adesso in poi, cioè sia coinvolto, non può non esserlo nel caso la crisi esplodesse, ma sia coinvolto anche nel caso si trovasse un compromesso. Perché io penso che il compromesso, come diceva Alessandro Aghisleri, va spiegato al Paese. Cioè bisogna dire al Paese che cosa succede da oggi a quando, speriamo fino alla fine della legislatura, ma è difficile crederci. E quindi non bastano i compromessi di Palazzo, bisogna che Conte, se si riuscirà a trovare un accordo, dica io l'accordo lo faccio su questi punti e chiedo il voto del Parlamento per chi ci sta su questi punti, che sono appunto, vabbè, li conosciamo, soprattutto sono gli aspetti che riguardano la ripresa di questo Paese. Perché ci dimentichiamo che il Paese è in ginocchio e si continua a stare appunto con le valigie pronte con un Paese in ginocchio, non è accettabile. Quindi se ho capito, Antonio, tu prefiguri comunque un passaggio parlamentare augurabilmente al termine di questa risoluzione della crisi e non all'inizio. È obbligatorio. Certo.